a Vi ricordo che sono su twitch e di live il nome eurthomas46 quindi vi consiglio di seguirmi Lascerò tutti i vari indietro in descrizione su questo canale porterò dirette tutti i giorni su fortnite minecraft school of duty zombie Multiceccatore e earth of iron 4 non mancheranno inoltre dirette per eventi speciali quindi vi consiglio di seguirmi ora passiamo al video a me è esploso il vulcano quindi ma che cazzo Quindi si ritorna aperto Si Meno male Giulio Lande è una città Normale Lande non è una città E' una fattoria Va bene Perduta Va bene è comunque più grande di monte grosso Beh anche palco non è una città sa per questo E' una merda Ma stai uguale a parco perchè fa schifo Eheh 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 Guarda come uno prende l'armalino E invece l'ho preso Ma mid sei tu sotto di me Si Ma chi è quello che dice Maurizio Sosera Sos Sos Senti già che sono sceso con voi Ma che vuol dire A me mi fa cagare Ma mi fa cagare Ma mi fa cagare sta fitta Anche a me Ma funziona sbicciare con la mitraglietta velocemente Si Cosa vuol dire? Mid c'è uno ovest Due ovest Tre ovest Eheh Eheh vabbè Due nella casa e uno è la dove sei finito Tutti sei Cinquantadue Asti due davanti Ha uno dei due davanti Arrivo con le pomme puzzolenti Cinquantadue Quindi era Quella a destra C'hanno Due cinquanta HP Ehi E lui lo verrà tutti Lorenz Speriamo venga ucciso Oh si Guarda a te Guarda a te Oh è qui eh Oh è lenta Oh what the Ma dov'è? Mi sta picconando a me C'è uno con l'ombra da me So io Non mi potrebbe Mi sa l'ho trovata Ma no come c'è morto Eh Thomas Me l'ha guffata no? Ma una guffata non porta la morte Ah è morto Tienilo Grazie sciagalli Cosa vuoi? Ti ho lasciato due band C'è uno da me Lo vedo? Come cazzo fai a ittarmi questo? Trenta bianco E' un'ombra Dov'è? Sotto tipo Sotto cosa vuol dire? C'è qua dentro Ah! Va bene questo vuole giocare Ma questo? Oh Vabbè Così Non arrivo addosso Non avevo un po' Oh ma è possibile che non c'è un pompa testo in questa città enorme? Ripeto, fa cagare Ha solo tutto da lutare Vabbè io scelgo una casa e mi provo dentro la casa E' nel pacchetto incluso Ma penso che siano tutte fatte le case No Sì Ah c'è un po' sul tattico sul tetto di 218? Questo aveva un posto piccolino Questo era tutto da lutare ma non c'era un cazzo Mid ripeti Sì Non ho detto niente No 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 quello che hai stato riflettendo io prima Parco fa schifo Ah parco fa schifo I mid bravo I sotterranei delle cose piccole sono stati lutati Sì l'ho lutati io L'arma più forte che ho è la cog verde L'ho lutati io personalmente con la mia moglie Certo che io do avva Ho fatto pure le Ho cercato di fare l'accento un po' napoletano Che io do avva Io invece romano sei e romano rimanga Roma sud Ovest Roma capito Ho le bende per te Simone Ma chi è che lancia sta merda? No non ho niente Sono nemici oh Comunque Non le hai perché le hai tirate No non le ho tirate io porca madonna Ho le bende per te non ti do la sloop se poi muore cazzo le do le bende No ma stavo insultandolo Oh sempre con me ce l'hai l'ha appena bevuta Thomas Eh per quello che mi sono sentito in cause Grazie che pensavo anche con me Sii Da nord Ti lascio le bende qua? C'ho un lama raga Bende qua? E' il terzo lama che trovo E' un rampa che sta arrivando Eccolo Un 5 HP Un 5 HP Un 5 Ti ha lasciato le bende le bende Ma eeeh se A uno ho fatto il 90 a blu Terrato? Sii la prima arma che riesca a lutare da un nemico E' niente pump Che fai No non aveva niente questo Ah ce l'ho io un po' ben più partissimo Capito quello ce ne ha addirittura due di pump Perchè le ho raccolti ora nella fuga Noi stiamo a cerca Primo qua c'ho altre bende Mi fermo Mi fermo Non andavo proprio con lo scudo grande Volentieri Avete anche i cildini? No 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 Se arrivandolo sei più Possi in voi andrai Qualcuno mi aspetti solo col quad Io Arrivo Vabbè andiamo Ma io magari potrei prendermi lo scudo mentre ho da papà No non puoi Oh ma io vado dentro il condotto poste qua Per la palla Che va quello qua Non lo so Non vorrei Buggare Vabbè ci stiamo già buggando lo stesso Calcolate io Oggi ho fatto una partita e c'era un driftboard senza perci... C'era il driftboard che andava da su Ma tutta questa roba? Anche perchè io non riesco più ad uscirne Oh oh Senti prendiamo sta C'è un sacco di roba qua C'è del loot Ma che cazzo? Mi è arrivato un driftboard addosso Oh no E' il mio Ok Ho dovuto abbandonare la nave e l'equipaggio Eh ma ho capito da me raga Ma non posso salire su Poi ce l'ho fatta Ah si? Raga perchè c'è un driftboard in aria? E' il mio Pensavo che... Nemici? A 170 arrivando da noi Dove veramente non erano per noi però li ho chiamati io Va bene E' sulla montagna tipo a sud No vabbè No penso sia andati via per il condotto Ti puscia o li puscio? Perchè addio Mi stavano pusciando ma poi Lorenzo li ha spaventati penso Sì Ma magnifico Pinnacoli così sembra... Qualcuno colpi piccoli In colpa Ah si vero Sembra fatta in creativa La usiamo? Io l'ho usata Ehm... piccoli Ma che so se cose che immagino Le accetto Ma raga ma si prendono i materiali più... No Che cazzo è? Hanno modificato i materiali Non si... Non si prende più perciò mai No però se ne prendono di più No Pusciano... Come a minimo... Pusciano o li stai pusciando? No c'è qualcuno Aspetta un casino della madonna Lo capisco Cento gente che vola Cento sos che vola Anche io Fa un pump Colore? Blu Non lo voglio Se lo vuole mid Ce l'ha già Ce l'ha già Andiamo in zona Zona... Con una pallena puttana Beh che dire Sembra la mamma di... Vabbè... Non diciamo... Il dubbio qualcuno che non c'è Beh... Aspetta... Albert no Eh no Ho aperto con i suoi poteri Ma ci senti pure da mutare Ti immagini? Ma ste roba qua sono... Sono... Fortissime Cioè... Dio safe praticamente Cosa? Non ho capito Se la gente muore ancora per la safe Ci stanno aggiungendo di tutto Per non morire Per la safe Io vado a visitare un attimo sto coso un'altra Cosa? Visito sto coso un'altra Ma aiuto Ma è in una sola partita? Devi farne tre o... O non lo so... Come funziona? Devi visitarli tutti Sì Basta Cos'è che devo visitare? L'astronale Oh vedo gente Andiamo? Mi si rompe la palla adesso Pam... Spaccata Naruto Naruna Raghi Dove sono... Ah li vedo? Dove sono... No ma dai Sei proprio rotta in culo La piattaforma fa schifo al cazzo Chi è la? Ah no Aiuto Aiuto Arriviamo ragazzi Aspettateci Ma è di nuovo un mostro Basta Mova Ci esplode tutto io Eh... L'ho pusciato da dietro o sono i soccorsi? Non lo so Meno sciolto Dai Ho ucciso uno Però mi sto reanimando Cioè mi sto curando Devo venire là? Va bene? Buon? Mannaggia Io stavo facendo tutte le volte Ciò che Minda non può fare Ti danni strani Cioè lutando? No Mi devi animare Sì 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 a me però vabbè lo metto qui in safe l'olio è proprio di tu gli scudini di me eh sì è perché è sempre così dove stai? oh ma chi è? aiuto li lasciate lì dove è il falò? ma dove li ha lasciati? scudi non ce li ho io ma non ce li ho o ce li ho io? anche io ho un falò ragazzi mid sempre così mid ti lasci gli scudi passalo vento e sti di ruba ma uno sta prendendo le cure l'altro ti fa spazzerà tosse ma che cazzo non lo so cosa sia successo mid sconto scissi come l'hai riuscito fatene buona il falò? hai trappato come Pablo venite qua rigo ma hai rubato il falò? ma ce l'ha sì ma un altro quel falò perché ce l'avete con me oggi? ma ce n'era uno per te e tu l'hai preso con chi ce l'ho doveva avere? con Simone ok chi stacca scudini? io posso io non ho nulla l'ho lasciato le bende l'agente 129 rip 15 bende no le prendo io ma voi chi state sparando? quello là 168 ah io non ho ho sparato a più ho usato un'onta va bene la prossima cosa che devono togliere mi danno il nervoso vabbè perlomeno non possono in cui passare i fortini mi durano poco e mi hanno sciolto e c'hanno la minigun quello con la minigun è scudato sta qui va bene sotto da te si stacca da qualche parte non è salita non lo so non capisco a poca vita eccola chi è che ha uno scendino? io c'è un medikit lo da qualche parte lo rischio ok qui pompa viola arco cose un'altra bomba viola qua qui c'è un'altra viola se volete quindi lo scendino dov'è? poi io l'ho lasciato da qualche parte io non ce l'ho ho un medikit però per Lorenzo qua dovrebbe stare Lorenzo? stanno faietando a nord ovest? ah l'ho preso io l'ho uscita eh eh medikit medikit ok c'è gente qua ci sono altre bende che posso prendere scendino a 12 io che spodio? eh vi ho spottato gente mille volte non lo vedo io il nemico che è indicato c'è anche altrimenti la perfetto ah schieramento vabbè è ovvio ma quanti sono? sono tantissimi un tipo 2 team penso ho scudato quello che sta salendo è bianchissimo quello che sta salendo però io ho bisogno degli scendini eh saliamo su? o ce li ha Lorenzo quello io mannaggia Lorenzo se facessero una volta i cazzi suoi vabbè senti eh io li stavo staccando e li ho visti lì e non si non li volevo ma se li ho chiesti per mezz'ora qualcuno col cecchino io occhio Thomas che penso abbiamo anche qualche nemico ovest anzi anche a nord-est perché io ho il barretto se vuoi ti rompo il culo anche andiamo dagli altri non stiamo e anche pochino aspetta il mio scendino madonna ci stanno bombardando ma dove sono? sopra il coso davanti che merda li assaltiamo ah no tanto non sono in zona devono scendere loro si è saltato via bastardo hai capito ma dai ma come cazzo è possibile che mi prendi nel cielo? arrivo dimmi se rompono mi stanno colpendo buono ho una benda per te non ho nient'altro ho premuto tutti i tasti per costruire insieme poi occhio dobbiamo muoverci si muoviti subito siamo nella merda questi ci scioglono sopra cazzo che parli Simone è una merda come? ma sono ancora sopra a sparare quelle merda cosa? dai no 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 davvero vale compermelo compermelo oh arriva arriva ma perché non riesco a salire? oh mi ha cecchinato sono davvero tanti hai bende no no eh se rimango fermo smuoglio ha trattato uno io ho ucciso l'altro ce ne sono due sotto salgono qua sono nascosti lì come dei vermi muoiono dentro mi sa vittoria 6 quante voi? 7 Simone 7 buono zero kill vado a mangiare è tornato come i vecchi tempi l'ho scritto a mangiare a mangiare o a mangiare a mangiare a mangiare Grazie per la visione!